ragazzi e gola e gola e gola e gola e gola e gola di Zeko futuro attaccante interista ragazzi Zeko e gola e gola e gola e gola e gola della Bosnia di Zeko ragazzi e sarà il nuovo attaccante della FG internazionale Milano di Antonio Conte ragazzi sono ritorno nelle live reaction ovviamente ragazzi lasciate un like iscrivetevi e ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale e guardate i video ragazzi ciao qua ciao ragazzi